Notizia bomba! Petra è in realtà la madre di Kruz. In questo video esploriamo la sorprendente e intrigante relazione tra Petra e Kruz. Il mistero dietro, il legame tra Petra e Kruz ha sconcertato gli spettatori sin dall'inizio. Fin dalle prime scene in cui i due appaiono insieme, emerge una dinamica intrigante e complessa che ha tenuto tutti con il fiato sospeso. La domanda che sorge spontanea è, perché Petra è così sottomessa a Kruz? Qual è la vera storia dietro la loro relazione? Petra, una donna forte e indipendente, sembra perdere tutta la sua forza di fronte a Kruz. Questa sottomissione appare tanto più inspiegabile quanto più si approfondisce il suo carattere, solitamente determinato e sicuro di sé. Tuttavia, ogni volta che Kruz entra in scena, vediamo una trasformazione in Petra che lascia tutti a bocca aperta. Kruz, d'altra parte, appare come una figura enigmatica e dominante, ma con sfumature che suggeriscono una storia ben più complicata di quanto non sembri a prima vista. Gli spettatori si chiedono se ci sia qualcosa nel passato di Petra che la lega così indissolubilmente a Kruz, forse un debito di gratitudine? Un segreto inconfessabile che Kruz usa per tenere Petra sotto il suo controllo? O c'è qualcosa di più profondo e oscuro che solo pochi immaginano? Ogni episodio sembra aggiungere un nuovo pezzo al puzzle, ma al contempo ne toglie un altro, lasciando la verità sempre fuori portata. In molti si sono chiesti se la sottomissione di Petra a Kruz sia frutto di un amore malato, un sentimento di paura o una combinazione di entrambi. La loro relazione sembra andare ben oltre la semplice dinamica di potere. Ci sono momenti in cui Petra guarda Kruz con un'intensità che suggerisce sentimenti contrastanti, amore, odio, paura e forse un pizzico di speranza. È possibile che Petra veda in Kruz una possibilità di redenzione o un modo per espiare qualcosa del suo passato? La verità è che ogni aspetto della relazione tra Petra e Kruz è avvolto nel mistero. Gli autori della storia hanno abilmente costruito una narrazione che tiene il pubblico costantemente in bilico tra la curiosità e l'ansia. Ogni nuova rivelazione sembra portare più domande che risposte, alimentando teorie e speculazioni tra i fan. Inoltre, la complessità del legame tra i due protagonisti riflette una profonda esplorazione della natura umana. La sottomissione di Petra potrebbe essere vista come una metafora delle dinamiche di potere nelle relazioni, della lotta interna tra il desiderio di libertà e il bisogno di appartenenza, della sottile linea tra amore e dipendenza. Kruz rappresenta il mistero dell'autorità e del controllo, un enigma che Petra cerca disperatamente di risolvere. In definitiva, la storia di Petra e Kruz è un labirinto emozionale che continua a intrigare e affascinare gli spettatori. Ogni episodio è un passo più vicino alla verità, ma la vera natura del loro legame potrebbe rimanere nascosta fino alla fine, tenendo tutti col fiato sospeso fino all'ultimo momento. La tensione e l'aspettativa continuano a crescere, rendendo ogni sviluppo della trama un evento imperdibile. Fin dalla prima puntata, Petra ha mostrato un livello di sottomissione quasi irritante verso Kruz. L'ha aiutata in ogni situazione, dalle faccende quotidiane all'atto estremo di avvelenare il tè di Elisa, salvandola miracolosamente. Petra si è anche presa la colpa del rapimento del figlio di Pia senza protestare. Nonostante Kruz abbia relegato Petra a semplice domestica scegliendo Pia come governante, Petra non si è mai ribellata. Il suo intenso odio per Pia solleva ancora più domande su cosa leghi veramente Petra e Kruz. Un evento tragico svela la verità. La morte di Feliciano diventa il punto di svolta. Kruz e il suo complice Lorenzo pianificano di uccidere Curro, ma a perdere la vita è Feliciano. Nei suoi ultimi momenti, Feliciano è tra le braccia di Petra, ed è allora che Kruz scopre che Petra è la sua vera madre. Il dolore e l'emozione inaspettata di Kruz rivelano un lato di lei mai visto prima. La tragica morte di Feliciano avviene in circostanze drammatiche, gettando tutti i personaggi coinvolti in uno stato di shock e di profonda riflessione. Feliciano, un uomo che ha sempre cercato di proteggere quelli che amava, si ritrova in un momento cruciale della sua vita proprio tra le braccia di Petra. Questo incontro finale non solo segna la fine della sua esistenza, ma anche l'inizio di una rivelazione sconvolgente per Kruz. Mentre Feliciano esala l'ultimo respiro, Petra non riesce a trattenere le lacrime, e con voce rotta dal dolore svela a Kruz una verità nascosta da troppo tempo. Petra è la sua madre biologica. Kruz, che fino a quel momento aveva vissuto nella convinzione di essere orfana o figlia di un'altra donna, si trova improvvisamente di fronte a una realtà che sconvolge tutte le sue certezze. Il piano originario, che prevedeva l'uccisione di Curro per vendetta o per qualche altro oscuro motivo, prende una piega totalmente inaspettata. Lorenzo, il complice di Kruz, resta attonito di fronte alla scoperta, incapace di comprendere appieno le implicazioni di quella rivelazione. Kruz, d'altra parte, è travolta da un turbinio di emozioni contrastanti, rabbia, tristezza, confusione, ma anche una sorta di sollievo nel sapere finalmente la verità sulle sue origini. Il volto di Kruz, solitamente impassibile e duro, si trasforma sotto il peso di queste nuove informazioni. Le lacrime cominciano a rigarle il viso, segno di un'emotività che raramente aveva mostrato prima. La sua figura, solitamente sicura di sé e determinata, appare ora vulnerabile e umana, rivelando un lato di sé che nessuno, nemmeno Lorenzo, aveva mai visto. Petra, nonostante il dolore per la perdita di Feliciano, sente un senso di liberazione nel poter finalmente abbracciare sua figlia e svelarle la verità. Il paesaggio attorno a loro sembra riflettere la drammaticità del momento. Un cielo nuvoloso, quasi a voler partecipare al lutto dei personaggi, e un silenzio interrotto solo dai singhiozzi e dai sospiri dei presenti. La tensione è palpabile, e ogni movimento sembra carico di significato. Kruz stringe la mano di Petra, sentendo per la prima volta quel legame di sangue che le era stato negato per così tanto tempo. La morte di Feliciano, sebbene tragica, diventa così il catalizzatore di una verità che cambia per sempre la vita di tutti i coinvolti. In questo contesto, la figura di Kruz emerge in tutta la sua complessità, non più solo una donna fredda e calcolatrice, ma un essere umano capace di provare sentimenti profondi e di reagire in modo imprevedibile di fronte alle avversità. La scoperta della sua vera madre rappresenta per lei un nuovo inizio, un'opportunità per rivedere le proprie scelte e per trovare forse una nuova strada da seguire. Petra, dal canto suo, si prepara a costruire un rapporto con quella figlia che non ha mai potuto conoscere veramente, sperando che il futuro riservi i loro momenti di gioia e comprensione reciproca. Questo evento segna quindi non solo una svolta nella trama, ma anche un profondo cambiamento nei personaggi, che ora devono affrontare nuove sfide e trovare un modo per convivere con le verità appena rivelate. La commovente e sorprendente connessione tra Petra e Cruz, come madre e figlia, spiega l'amore incondizionato di Petra e la sua accettazione della crudeltà di Cruz. L'amore di una madre può spingerla a sacrifici inimmaginabili. Se questa rivelazione ti ha sorpreso, non dimenticare di mettere mi piace al video, iscriverti per altri contenuti emozionanti e condividere i tuoi pensieri nei commenti.